L'interazione tra mercato immobiliare e credito è necessaria per alimentare la ripresa e una più marcata inversione di tendenza del settore dopo un lungo periodo di calo. In un contesto economico in cui si allenta una lunga stretta e le banche tornano a erogare credito, ma in base alla capacità di rimborso del cliente, FIAP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, punta su Auxilia, società che offre supporto tecnico e finanziario agli iscritti. E' importante fare una consulenza preventiva efficace, quindi non possiamo dare un prodotto standard a qualsiasi cliente, quindi a ciascun cliente va dato su misura il prodotto che è meglio per lui. Fatto questo poi lo seguiamo via via nel corso del mutuo affinché se ci sono difficoltà, bisogno di rimodulare il finanziamento, di surrogare il mutuo, noi siamo sempre pronti, disponibili. L'agente immobiliare in effetti può sostanzialmente dire al suo cliente che ha un collega che fa parte della stessa famiglia, che è quella FIAP, che potrebbe proporgli un finanziamento, dargli una consulenza soprattutto. Il rapporto con le banche è gestito sempre ed esclusivamente da un contratto di collaborazione, infatti noi non lavoriamo, non collaboriamo con banche con le quali non abbiamo convenzione proprio perché il cliente, il consumatore, l'utente deve essere certo del rapporto che intercorre tra la società di medizione creditizia e l'istituto.